Musica Bentrovati alla seconda edizione della TG6 atteso per la serata di domani l'arrivo della neve sulla nostra regione precipitazioni che come spiegano gli esperti annunciano arriveranno anche a bassa quota le province di tutto il territorio hanno già disposto i piani per garantire la viabilità e la sicurezza Francesca Romana Tessi Neve in arrivo per l'Abruzzo la notizia ormai è stata diffusa da esperti meteoistituzioni che hanno già organizzato la macchina amministrativa per garantire la percorribilità delle strade in tutta la regione la provincia di Pescara ha già iniziato con i mezzi spargi sale nell'entroterra oltre alla neve l'attenzione è concentrata sulla formazione di ghiaccio e in città prosegue la potatura degli alberi per evitare danni a persone e cose Abbiamo le risorse non solo come provincia di Pescara ma tutte e quattro le province d'Abruzzo altrimenti avremmo avuto difficoltà a programmare ogni tipo di intervento utile abbiamo avviato una concertazione con gli operatori che hanno risposto alla manifestazione di interesse sono 28 gli operatori individuati dalla provincia di Pescara abbiamo 10 nostri cantonieri già pronti a intervenire sulla viabilità e 4 mezzi della provincia che sono appunto funzionali alle operazioni di sgombero neve e comunque di pronto intervento accanto a questo abbiamo chiaramente un deposito di sale a disposizione abbastanza consistente più di 170 tonnellate di sale disponibile e abbiamo allertato anche i colleghi sindaci perché laddove ci saranno delle precarietà saranno anche loro a collaborare con la provincia segnalando in base al piano neve che abbiamo predisposto tutte quelle che saranno le eventualità che possono arrecare qualche difficoltà in qualche tratto di strada provinciale che chiaramente porta ai comuni della provincia stessa Pronti anche i consigli delle associazioni ambientaliste che rivolgono un appello ai cittadini ricordando che con il depositarsi della neve diventa impossibile il reperimento di cibo e acqua per molte specie l'invito è quello di lasciare piccole mangiatoie su balconi e terrazzi anche in zone riparate Appello anche dalla Ruzzo Reti di Teramo che spiega come adottare accorgimenti utili a non interrompere il servizio idrico in casa coibentare i contatori e se necessario procedere a riscaldarli con phone e diffondendo per chi ne avesse bisogno un numero verde per le emergenze l'800 064 644 Il comune di Chieti ha dedicato una pagina nel sito ufficiale dell'ente con i consigli per affrontare la neve avendo disposto già da tre mesi il piano e dando priorità alle grandi arterie della viabilità per garantire il raggiungimento delle scuole Uomini e mezzi per rimuovere la neve saranno garantiti senza limiti per evitare difficoltà Importante è anche l'azione del governo regionale che ha destinato somme alle amministrazioni per poter affrontare l'emergenza E anche sul Gran Sasso è arrivata la neve gli operatori turistici sperano che la Befana porti un po' di ristoro alle attività martoriate da un caldissimo dicembre Germana Dorazio Se il Natale è stato assolato la Befana porta la neve in cima al Gran Sasso e Campo Imperatore, unica stazione rimasta chiusa per le festività potrà aprire le piste in questo fine settimana Nella notte la neve è caduta abbondante fino a lambire la città ha imbiancato il Gran Sasso così come il Monte Calvo Alla prima neve sul Monte Calvo vendi le capre e metti il mantello dice il vecchio adagio aquilano La speranza è dunque che l'abbassamento delle temperature e la paventata ondata di freddo in arrivo per l'Epifania aiuti a recuperare tanto del turismo montano perso nel caldissimo dicembre che ha chiuso il 2016 Il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile in considerazione delle previsioni meteorologiche prevede nella giornata di domani 5 gennaio e fino alla mattinata del 7 gennaio nevicate su gran parte dell'Abruzzo La neve interesserà inizialmente i rilievi appenninici fino a quote collinari e nella notte tra il 5 e il 6 gennaio anche le località del litorale La neve arriverà grazie ad una veloce discesa di area artica attualmente posizionata sulla Norvegia che interesserà il bacino adriatico e tutte le regioni balcaniche associando dunque alle nevicate anche venti di forte bora che potranno causare le mareggiate lungo le coste d'Abruzzo E la pioggia e la neve tornate a cadere in queste ore sono una manna dal cielo non solo per gli operatori turistici delle stazioni scistiche ma anche per il lago di Campotosto il bacino artificiale più grande d'Abruzzo in provincia di L'Aquila ieri appariva semi prosciugato come si può vedere dalla fotografia qualcuno ha pensato che potesse trattarsi di misure adottate per scongiurare rischi legati alla tenuta sismica della diga visti i recenti terremoti invece il tutto è dovuto agli effetti della mancanza di precipitazioni secondo i dati forniti da Appennino Ecosistema dicembre è stato il mese più asciutto degli ultimi 10 anni visto che è piovuto il 10% di quanto piove mediamente sull'Appennino centrale un fatto clamoroso se si pensa che negli ultimi 50 anni sulla stessa area le precipitazioni medie annue hanno subito un decremento del 20% l'abbassamento del livello del lago di Campotosto tuttavia non desta particolare preoccupazione sotto l'aspetto naturalistico essendo un bacino artificiale Guido Liris consigliere comunale di Forza Italia nel comune di L'Aquila contesta aspramente i nuovi vincoli apposti nelle aree del Gran Sasso dalla regione impediscono lo sviluppo turistico dice il consigliere ascoltiamo con la delibera di giunta di fine dicembre che converte i siti di interesse comunitario le zone di protezione speciale in zone a conservazione speciale caro D'Alfonso ha ucciso l'Aquila e tutte le possibilità di turismo su cui erano riposte le speranze di giovani imprese e attività commerciali e questo l'incipit della lettera aperta al presidente della regione Luciano D'Alfonso del consigliere di Forza Italia al comune dell'Aquila Guido Quintino Liris con l'ennesima colpevole sospetta assenza del vicepresidente Lolli dice Liris nella lettera con questo provvedimento si rende di fatto impossibile il percorso di revisione dei vincoli che ad oggi impediscono lo sviluppo del Gran Sasso a dispetto delle migliaia di firme raccolte dal comitato Save Gran Sasso con la delibera 877 del 2016 viene posta la parola fine allo sviluppo del comprensorio sciistico di Campo Imperatore i disagi secondo Liris non riguarderanno solo il turismo invernale ma anche quello estivo o comunque non legato allo sci dai divieti relativi al parapendio a quelli sull'arrampicata ai divieti all'uso di droni e i divieti per la caccia e la pesca l'allarme lanciato da Liris risiede anche nelle misure che regolamentano il transito del pubblico anche a piedi dell'impossibilità di ripulire i fontanili senza autorizzazione dell'impossibilità di realizzare manufatti ex novo al fine di evitare anche minimi consumi di suolo in compenso conclude Liris viene incentivato l'uso delle bestie da Soma come il mulo Ancora difficoltà per la marineria di Pescara che attende l'annunciato abbattimento della diga forane a causa dell'insabiamento del porto canale Nell'attesa c'è un altro problema da affrontare l'arrivo dell'ondata di maltempo che mette in pericolo le imbarcazioni ormeggiate in porto dal 2012 la marineria di Pescara vive in uno stato di precarietà e difficoltà economica lo stop arriva a causa dell'insabiamento del porto canale che ha reso impossibile il normale accesso delle imbarcazioni con danni riportati ai mezzi e il blocco delle attività di pesca per tante famiglie che hanno fatto di questo mestiere il proprio mezzo di sostentamento la notizia tanto attesa era quello dell'abbattimento della diga forane a causa dell'insabiamento marzo è il mese fissato per la svolta la situazione è molto grave seguita da gravarsi giorno per giorno dire che poi il taglio della diga foranea sia una necessità è una cosa giusta certamente avrà dei pro e dei contro però nel frattempo con il taglio della diga con la diga soffolta con tutto quello che prevede il piano regolatore portuale qualcosa si muove noi come associazione armatori punteremo subito allo svuotamento della vasca di colmata perché solo svuotando la vasca di colmata poi questo permetterà un ulteriore dragaggio e a discapito di quante altre gente ci rema contro perché non si sa che cosa va trovando tra tutte le cose che comportano il piano regolatore portuale noi andiamo dritti per la nostra strada perché intanto si muove qualcosa e per noi è fondamentale restano difficoltà economiche restano continui danni per chi cerca di portare avanti tra le tante difficoltà quel lavoro nei prossimi giorni attesa neve eventi forti una nuova prova di resistenza per gli uomini della marineria a Pescara siamo 200 famiglie su 50 imbarcazioni e quindi la situazione certamente non possiamo ritornare al 2012 questo è fuori discussione laddove si dovesse creare una situazione come il 2012 2013 dove le nostre imbarcazioni sono costrette a rimanere agli ormeggi per l'impradicabilità del porto poi sapremo chi andare a cercare cambiamo argomento nessuna soddisfazione per il Codacons dopo il bilancio delle operazioni di indennizzo forfettario da parte del fondo interbancario in favore dei risparmiatori delle vecchie Banca Etruria Banca Marche Carife Carichiti che ha portato finora rimborsi per 35 milioni di euro i rimborsi parziali pari all'80% del valore delle obbligazioni azzerate rappresentano solo l'ennesima ingiustizia a danno dei risparmiatori spiega il presidente Carlo Rienzi solo pochi fortunati prosegue riusciranno infatti ad avvalersi degli indennizi e una larga fetta di obbligazioni di obbligazionisti sarà tagliata fuori pur in presenza di danno identico per tutti si tratta poi di rimborsi e lemosina perché a fronte di un danno per i titolari di obbligazioni subordinate delle quattro banche pari a 431 milioni di euro sono stati finora liquidati appena 35 milioni di euro la battaglia del Codacons a tutela dei risparmiatori si legge in una nota prosegue nelle aule dei tribunali nell'ambito dei vari procedimenti aperti dalla magistratura l'associazione ricorda infatti ai piccoli investitori che hanno visto azzerato il valore delle obbligazioni subordinate che è possibile aderire alle azioni risarcitorie avviate dal Codacons hacker in azione su alcuni siti istituzionali dei comuni abruzzesi sotto attacco in particolare sette siti della nostra regione mentre sono stati oltre 100 a livello europeo gli hacker appartengono a un gruppo fondamentalista islamico Alfredo Primante sito offline sfondo con l'inconfondibile stema di anonymous arab ed una musica orientale ipnotica questo l'attacco hacker di un'organizzazione islamista molto attiva in occidente che mira a lanciare messaggi per dimostrare la propria esistenza e combattere l'invasore occidentale e per farlo usa la via informatica l'organizzazione è attiva da diversi mesi e si ispira agli ideali arabi e alla cultura musulmana rigettando la cultura e i principi occidentali e filo israeliani la questione palestinese è risolta da 80 anni e l'odio per gli israeliani considerati usurpatori sono i temi fondanti di anonymous arab riproposti a livello globale per mezzo della rete ieri gli hacker hanno attaccato numerosi siti circa un centinaio di cui una trentina in Italia e circa sette in Abruzzo hanno fatto sparire infatti il sito del comune di Montesilvano ma anche quello di Mozzagrogna e quello di Roccascalegni e Castelfrentano sotto attacco anche alcuni altri siti di imprese private come quello di un'agenzia di viaggi o di una officina meccanica oltre a qualche studio di avvocato il messaggio impresso nella nuova home page dei siti hackerati recita saluti mondo siamo anonymous arab medio oriente cyber armi siamo qui per consegnare solo un messaggio siamo musulmani e noi siamo orgogliosi il corano e il nostro libro crediamo in Allah per Allah lavoriamo morte Israele Palestina libera Gerusalemme è nostra impossibile dire come scelgano gli obiettivi da colpire con molta probabilità è solo frutto del caso il sito del comune di Montesilvano e quello di Castelfrentano da questa mattina sono nuovamente online mentre risultano offline quelli di Mozzagrogna e Roccascalegna conferenza stampa di fine anno anche al comune di Lanciano dove il sindaco Mario Pupillo ha tracciato il consuntivo del 2016 e le linee guida della sua amministrazione per il 2017 vediamo Lanciano città dei servizi per il comprensorio il sindaco Mario Pupillo confermato dalle urne a giugno 2016 traccia il bilancio delle attività dell'ultimo anno e rilancia il programma di governo con i lavori pubblici eseguiti e quelli da fare per circa 4 milioni di euro impegnati una variante al PRG per la realizzazione del nuovo ospedale e la chiusura da scongiurare del tribunale non ci rassegniamo a detto Pupillo assieme agli assessori in conferenza stampa nella sala consigliare chiudere il tribunale di Lanciano per accorparlo a quello di Chieti significerebbe far spendere 10 milioni di euro alla collettività Sono i temi del primo mandato che poi abbiamo trasferito nella variante al PRG cioè la città che ha dei temi fondamentali il turismo il commercio la città dei servizi è una città che è rispettosa dell'ambiente quindi città dei servizi significa che non ci possiamo privare del nostro tribunale che abbiamo bisogno di un ospedale nuovo e abbiamo inserito l'Inps all'interno della struttura del palazzo degli studi quindi servizi ai cittadini e al territorio e abbiamo un cantiere 4 milioni di opere pubbliche che si armonizzano con questo piano strategico quindi la pista ciclopedonale di Via del Mare che poi continuerà dentro l'ippodromo e infatti anche le tribune sono oggetto di intervento C'è poi l'idea del tram cittadino su proposta di Tu all'azienda di trasporto unico regionale da realizzare sull'extracciato ferroviario della Sangritana aver sposato il concetto di mobilità sostenibile con il tram nel vecchio tracciato ferroviario che TUA metterà in azione nel prossimo 2018 sono tutti segnali che dicono che c'è un piano strategico che la mia squadra sta portando avanti e che certe volte può anche non essere così popolare anzi certe volte sforiamo l'impopolarità come con la ZTL e con le ciclovie ma noi siamo tranquilli perché spesso i cambiamenti vengono subiti in maniera così non adeguata e poi il tempo magari ci darà ragione tutto questo per dire che questa città ha fatto dei cambiamenti enormi e sta viaggiando in un periodo estremamente complicato e difficile verso una collocazione all'interno del concetto di smart city cioè città accogliente città sostenibile città inclusiva noi non abbiamo paura degli immigrati vogliamo inserirli all'interno di un percorso di integrazione il commercio a Teramo sta vivendo una crisi profonda e per i commercianti non saranno i saldi che partono domani o la fiera della Befana di oggi a poterne risolevare le sorti e intanto la città perde pezzi importanti Tania Bonici Castelli il commercio a Teramo è decisamente fuori forma un anno di lavori sul corso principale non ancora conclusi il terremoto che ha svuotato la città a favore della costa e una crisi strutturale complessiva hanno messo in ginocchio l'economia cittadina teramana il Natale ha portato solo un lieve sollievo ai commercianti che sperano però di recuperare con i saldi per i saldi che si preannuncia cerchiamo di recuperare forse quello che si è perso proprio perché molte persone aspettano anche un po' i saldi partiranno domani quindi neve permettendo perché abbiamo anche l'incogna tanto quest'anno non ci siamo fatti mancare nulla Lei dice che non è tanto il problema del commercio quanto di questa città Sì qui devo dire che dovrebbero essere chiamati in molti intorno a un tavolo per parlare di questa città ma soprattutto per cercare di risollevare le sorti di questa città perché qui bisogna davvero capire che Teramo in questo momento sta soffrendo e sta soffrendo davvero tanto È brutto ammetterlo ma sembra ormai esserci abituati ad ascoltare l'elenco di cose che proprio non funzionano nel commercio a Teramano ma poi ecco che arrivano segnali che sono un pugno allo stomaco un prestigioso negozio di Teramo la gioielleria lo scrigno dopo 55 anni di attività chiuderà per trasferirsi a Pescara segnali che fanno capire che si sta toccando il fondo Dopo 55 anni lei decide di andare via da questa città Io non ho deciso di andare via non abbandonerai Teramo per nessun motivo e che purtroppo la protezione civile ha reso inagibile questo locale tutto il palazzo tutto il grado è quindi il rischio crollo e sono costretto ad uscire nel più breve tempo possibile Il commercio soffre già da qualche tempo un anno di lavori del corso insomma hanno inciso anche Il commercio ormai a Teramo soffre da 10 anni non da un anno non da due sicuramente i lavori del corso hanno inciso gravemente sfregiando la città in una maniera indelebile però adesso non farei la solita polemica sul problema dei lavori la città di Teramo soffre da 10 anni in questa parte per una serie di mancanze strutturali organizzative politiche Ma non è che poi rimane per sempre a Pescara? Chi lo sa faccio l'esperienza di Pescara e mi auguro di rimanere terramano per tutta la vita Il comune di Pescara solidale con le popolazioni terremotate delle Marche dopo l'iniziativa rivolta a Pescara del Tronto oggi cerimonia dedicata agli abitanti di Arquata che hanno trascorso una giornata in città tra tradizioni locali e gastronomiche con il sostegno di molte associazioni pescaresi Il servizio Una giornata dedicata agli abitanti di Arquata del Tronto che dal 24 agosto scorso non hanno più una casa e vivono lontani dai propri amici e dai luoghi che da sempre hanno costituito un punto fermo nelle loro vite Il comune di Pescara insieme ad alcune associazioni ha voluto accogliere e ospitare tutti coloro che non hanno potuto trascorrere un Natale familiare per farlo hanno scelto di mettere in campo tutto il calore abruzzese Il comune di Pescara vuole sostenere quella che è un'iniziativa di alcune associazioni del nostro territorio come Spazio Donna le associazioni dell'artigianato le associazioni della pesca varie associazioni che hanno voluto insieme proporre questa iniziativa questa giornata particolare e bella di accoglienza proprio a queste popolazioni Quasi cinque mesi da quel terremoto e dopo la corsa per l'emergenza ancora tardano a partire i lavori di ricostruzione e il ripristino della normalità curare un vuoto così grande non è facile ma l'Abruzzo che ben conosce la drammaticità di un evento così distruttivo non smette di far sentire la propria presenza e sono anche divisi diciamo rispetto a quelle che erano le amicizie che avevano nel loro piccolo borgo quindi non sono capitati negli stessi hotel perché con l'ordinanza di sgombero sono partiti così e quindi sono rimasti così quindi c'è anche questo discorso del distacco anche dalle amicizie che avevano oltre che dagli affetti e dai luoghi Il Centro Sperimentale di Cinematografia lancia un concorso video e fotografico per gli studenti delle scuole superiori Aquilane l'iscrizione è gratuita vediamo Vita di scuola e scuola di vita crescere e studiare all'Aquila e questo è il tema suggerito agli studenti degli istituti di istruzione superiore per partecipare al concorso video e fotografico promosso dalla sede Abruzzo del Centro Sperimentale di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema La prima edizione nel 2016 ha riscosso una buona partecipazione da parte degli allievi Alessio Placidi dell'istituto Amedeo d'Aosta è stato il vincitore assoluto disegnato dalla giuria ex equo il secondo premio è stato assegnato a Francesca Pileri del liceo Cotugno e al gruppo di quattro studenti dell'istituto Muzzi Federica Brizzi Chiara Cesarini Alessandro Di Maio Francesco Iavernano Alice Giordano del liceo Bafile ha conquistato il terzo premio il tema scelto quest'anno chiede di raccontare con foto e video uno o più momenti della giornata di chi studia all'Aquila gli scatti e i video potranno essere realizzati nella struttura scolastica o anche al di fuori il concorso è rivolto agli allievi delle classi terze, quarte e quinte e non richiede una preparazione specifica nell'ambito del video o della fotografia la selezione delle opere vincitrici privilegierà infatti l'attinenza al tema del concorso e l'originalità nell'interpretazione come nella scorsa edizione tutti i partecipanti saranno protagonisti di una mostra collettiva i vincitori otterranno pubblicazioni sul cinema e sulla fotografia e potranno trascorrere una giornata nella sede storica del centro sperimentale di cinematografia a Roma è possibile richiedere il bando di concorso all'indirizzo l'aquilachiocciola fondazione csc.it o negli istituti scolastici il termine ultimo per la presentazione degli elaborati è il 31 gennaio 2017 la partecipazione è totalmente gratuita ed ora passiamo alla pagina sportiva primo allenamento questa mattina al poggio degli ulivi per il difensore Cesare Bovo che arriva a Pescara dal Torino si tratta del terzo rinforzo di gennaio dopo Stendardo e Cerri intanto si punta all'acquisto di un attaccante piace sempre Gilardino domani prove generali per la gara con la Fiorentina nell'amichevole con il San Nicolò Paolo Renzetti dopo Guglielmo Stendardo e Alberto Cerri ecco Cesare Bovo il 33enne difensore già in Abruzzo per iniziare la sua nuova avventura in Riva all'Adriatico con l'arrivo dell'ex Granata il Pescara ha praticamente chiuso il rafforzamento del settore arretrato almeno per il momento considerando che a Massimo Oddo non dispiacerebbe avere un altro esterno inorganico il pallino del tecnico pescarese Riccardo Fiamozzi il Genoa chiede soldi per il prestito senza considerare che il giocatore Ligure è finito anche nel mirino del Frosinone che potrebbe strapparlo ai Biancazzurri in partenza a due fra coda Zuparic e Ghiomber che potrebbe tornare alla Roma dovrebbe invece restare Davide Vitturini e a proposito di cessioni c'è da registrare il passaggio del baby Francesco Mele classe 98 al Torino vicino invece il trasferimento del portiere Mirco Pigliacelli al Trapani per il centrocampo i dirigenti adriatici non hanno fretta mentre tutte le attenzioni sono proiettate sull'attacco con Pettinari e Manai ai saluti dopo l'arrivo di Cerri si punta ad un bomber più esperto il primo nella lista al di là delle smentite di circostanze e Alberto Gilardino che vuole chiudere al più presto la negativa esperienza di Empoli c'è il Sidi Oddo anche se Paloschi e Denis rappresentano delle alternative più che credibili non verrà invece a Pescara l'ex lancianese Tiam da valutare la permanenza in biancazzurro di Jean-Christophe Baybeck rientrato a Pescara nelle ultime ore a domenica prossima sarà di nuovo campionato con la squadra che prosegue la preparazione al poggio degli ulivi in vista della gara con la Fiorentina Verre Out per l'influenza fuori anche Pepe diversi giocatori che continuano ad allenarsi ai margini della prima squadra domani prove generali in un amichevole con il San Nicolò in Lega Pro il centrocampista della San Benedettese Luca Berardocco è entrato nel milino del DT del Teramo Alec Bolla intanto sembrano rientrare i propositi di cessione del difensore Nebil Caidi Andrea Costantini non mancano i nodi da sciogliere per il direttore tecnico terramano Alec Bolla al lavoro per ristrutturare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Lamberto Zauli non sono operazioni facili quelle vagliate in entrata per gli attaccanti Nicolò Romero l'aerone della Feralpi Salò e Andrea Ferretti del Trapani in un'intervista il DS della Feralpi Salò Olli ha confermato che lo stesso Romero che è in uscita dal club Bresciano ha ricevuto tante richieste tra le quali quella del Teramo lo stesso Olli ha anche fatto intendere che la Feralpi insegue Andrea Ferretti e quindi per questa pista è in competizione col diavolo Ferretti è un centroavanti di buona personalità e nella stagione 2013-2014 fece male al Teramo segnando al Bonolis prima con la maglia del tutto cuoio poi con quella del Poggi Bonzi consentendo alle due squadre toscane di portare a casa altrettanti pareggi lasciando Trapani vorrebbe riavvicinarsi a casa nel nord e questo complica i piani del Teramo per il centrocampo il nome delle ultime ore è quello di Luca Berardocco il centrocampista mancino pescarese è cresciuto nelle giovanili del Delfino potrebbe lasciare la San Benedettese e approdare la corte del Diavolo diventando il metodista da schierare davanti alla difesa consentendo l'eventuale avanzamento di Carraro anche se una mediana del genere potrebbe risultare troppo leggera per una squadra che deve salvarsi e che in campo dovrà lottare allo strenuo in ogni partita ovviamente la dirigenza del Teramo è al lavoro anche sul fronte delle uscite attraverso il Pescara Luca Forte sta per accasarsi in Serie B al Carpi col presidente del Delfino Sebastiani andrà anche verificata la possibilità di far partire Bulevardi destinazione Perugia sempre in cadetteria nelle ultime ore sempre dalla B sembrerebbe esserci un timido approccio della Latina per Alessandro Di Palantonio tra i più positivi nell'ultimo mese del Teramo l'ex tecnico Vivarini sarebbe contento di riaverlo alle sue dipendenze ma non sarà facile sembrano rientrare i propositi di dare il ben servito a Nebil Kaidi la volontà della società dovrebbe prevalere sulla richiesta del tecnico Zauli che comunque farebbe bene a sfruttare quella che è una risorsa per il Teramo e non una criticità in Serie D in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega Nazionale di Lettanti domenica non si giocherà Chieti-Vastese dopo il ritiro dei Nero Verdi verranno tolti i punti a tutte le squadre vittoriose nel girone di andata con i Nero Verdi appunto il servizio il definitivo forfè del Chieti che non scenderà più in campo è destinato a cambiare almeno parzialmente gli scenari del Girone F di Serie D in attesa di comunicazioni ufficiali da parte della Lega Nazionale di Lettanti infatti da domenica prossima giorno di ripresa del campionato dopo la pausa natalizia ogni settimana una squadra osserverà un turno di riposo e l'8 gennaio toccherà la vastese di Gianluca Colavitto che non giocherà così il derby del Guido Angelini con i Nero Verdi una volta che il ritiro di Etiatini sarà sancito ufficialmente la Lega di Lettanti provvederà a cancellare a tutte le squadre del torneo i punti conquistati fino ad oggi contro il Chieti la squadra di Mariani ha perso tutte le gare giocate tranne quella di recupero con il Monticelli che terminò in parità di conseguenza le squadre vittoriose con i Nero Verdi si vedranno decurtare tre punti in classifica anche se poi di fatto le posizioni resteranno praticamente immutate ma non è tutto perché la Lega disporrà d'ufficio lo svincolo automatico di tutti i giocatori tesserati con la società Chietina e a Chieti da domani si inizierà a pensare al futuro con la ripartenza la prossima stagione dal torneo regionale di eccellenza ed è tutto per questa seconda edizione del TG6 l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 23 grazie per l'attenzione e buon proseguimento di eccellenza di eccellenza di eccellenza di eccellenza